effetto green pass tornano a riempirsi gli hub vaccinali farmacie record di prenotazioni per tamponi e vaccini piazza redi il consiglio comunale boccia la riqualificazione sport quasi completa la rosa della vispesaro buonasera eccoci pronti a questo telegiornale di martedì 27 luglio che apriamo parlando della campagna vaccinale nella regione marche che sta riacquistando un nuovo slancio soprattutto dopo l'ufficialità dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio dal 6 agosto per accedere a diversi luoghi pubblici a tal proposito le nostre telecamere erano oggi proprio oggi a documentare la ripartenza del punto vaccinale all'ex risto che ha riaperto i battenti dopo tre giorni di chiusura dopo tre giorni di serrande abbassate per mancanza di rifornimenti lab vaccinale dell'ex risto di pesaro così come quello del codma di fano hanno riaperto i battenti in questa mattinata di martedì e qui al rossini center sono diverse le persone che sono tornate a mettersi in fila per la somministrazione anti covid e per dare nuovo slancio alla campagna vaccinale in vista delle ferie di agosto e soprattutto in vista della fatidica data di venerdì 6 agosto quella in cui entrerà in vigore l'obbligo del green pass vaccinale per accedere a diversi luoghi pubblici su tutto il territorio italiano dai ristoranti a palestre e piscine dai cinema gli stadi dai musei luoghi dello spettacolo tante situazioni in cui sarà richiesta la certificazione verde e dunque il vento è cambiato appena due settimane fa a luglio si arrivava a stento al 10 per cento delle prenotazioni sui vaccini e sugli orari di somministrazione disponibili ora in provincia sono previsti quasi 10 mila vaccini da somministrare da oggi fino al weekend non soltanto le prime dosi quelle cioè che servono per intraprendere la strada del green pass ma anche tanti richiami che erano stati rimandati in attesa di rifornimenti di sieri rifornimenti che erano andati esaurendosi proprio in relazione al calo delle prenotazioni dalla prima metà di luglio ieri invece di vaccini ne sono arrivati 1.300 per ripartire la campagna nella provincia campagna che sarà rafforzata ulteriormente da domani quando per il territorio provinciale arriveranno altri 10 mila sieri il vento dunque è cambiato anche per i diversi giovani che si stanno aggiungendo alla campagna vaccinale quella fascia under 30 che era invece mancata nella prima fase della somministrazione dei vaccini durante questa estate. L'effetto green pass si sta avvertendo anche nelle farmacie dove mai come in questi giorni si stanno registrando tante prenotazioni sia al vaccino sia ai tamponi rapidi. Le prime tre settimane sono state di vaccinazione in farmacia sono state tre settimane tranquille che ci hanno permesso di rodare il meccanismo di essere pronti poi per la ripresa delle vaccinazioni con più forza. Ricordo che nelle volontà del governo attraverso il commissario generale Figliuolo nell'autunno molto probabilmente gli hub vaccinali verranno chiusi perché si passerà da una gestione dell'emergenza vera e propria come l'è stata fino a questo momento a una gestione di quello che può essere un'epidemia tra virgolette normale come lo può essere l'influenza o altre malattie che hanno bisogno di vaccinazione. Quindi la volontà del governo è quella di far fede e utilizzare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e nel nostro caso anche le farmacie sia comunali che private. Con l'annuncio del green pass c'è stata un'impennata negli ultimi giorni di richieste. Noi stiamo continuando a farlo, abbiamo già superato le 100 persone che si sono vaccinate nei nostri app, facciamo le prenotazioni in tutte le farmacie e poi a seconda delle esigenze individuiamo farmacia settimana per settimana come poter utilizzare. Ecco vogliamo spiegare per chi rispetto al tradizionale vaccinale sceglie una farmacia come cambia la procedura di prenotazione e la rapidità dalla prenotazione alla somministrazione del vaccino? Diciamo che non passa più di una settimana dal momento in cui si prenota al momento in cui viene effettata la prima dose. È abbastanza semplice, si va in qualsiasi delle nostre 10 farmacie sul territorio, Nova Pesaro e una Gabice e si può fare la scelta proprio della prenotazione. Generalmente non passa più di una settimana, quindi se mettiamo a caso nel momento della farmacia di Soria dove siamo oggi, visto che domani sarà un giorno di vaccinazione proprio negli ambulatori alle mie spalle, probabilmente sarebbe stata anche la possibilità, prenotandosi oggi, di farla domani rispetto a quelle che possono essere le esigenze del cittadino. Non solo un rialzo di prenotazione dei vaccini ma anche quello dei tamponi rapidi? Sì, diciamo che il Green Pass, visto che dà la possibilità a chi fa il tampone entro le 48 ore di poter viaggiare, di poter fare determinate cose come se la persona fosse vaccinata, c'è stata anche qui un'esplosione di richieste di tampone. Noi già ne abbiamo fatti nelle nostre farmacie oltre 4.000 dal momento in cui la regione Marche ci ha autorizzato. Ultima cosa, ci si sta vaccinando molto in funzione di questo Green Pass e i farmacisti stanno dando anche una mano pratica nel scaricare il Green Pass? Sì, diciamo che come l'abbiamo fatto per le prenotazioni quando si faceva solo per gli avvacinali attraverso la piattaforma poste che c'eravamo messi a disposizione della popolazione, soprattutto la più anziana, che non era in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici per prenotare. Anche per quanto riguarda il Green Pass, se qualcuno, soprattutto le persone più anziane hanno problemi, già in alcune nostre farmacie sulla città di Pesaro, ribadisco sempre farmacie comunali, in maniera volontaria i farmacisti stampano anche, scaricano e stampano anche il Green Pass per le persone che non riescono a farlo in autonomia. E come avete potuto ascoltare dall'intervista a Luca Pieri, anche i farmacisti stanno spesso fornendo assistenza nello scaricare il Green Pass per chi, soprattutto per gli anziani, ha difficoltà a farlo. E allora nel prossimo servizio noi di Rossini TV vi abbiamo voluto spiegare passo dopo passo come si scarica il Green Pass. Il nuovo decreto del governo, che entrerà in vigore dal 6 agosto, prevede l'estensione dell'obbligo del Green Pass, permettendo solo a chi vaccinato o in possesso di un tampone negativo, l'accesso nei luoghi più affollati, specialmente in quelli al chiuso. In semplici passaggi vi spiegheremo come scaricarlo, partendo dal fatto che il certificato verde potrà essere ottenuto in forma cartacea o in forma digitale. Nel primo caso significa possedere la certificazione di immunità su un foglio, mentre nel secondo averla su un codice QR. Ma come fare per scaricarlo? Il primo passaggio è andare sul portale dedicato, digitando certificazione verde sul motore di ricerca e cliccando sul primo sito che appare in schermata. Una volta aperto, notiamo la voce come ottenere la certificazione ed entrandoci troviamo quattro link differenti per ottenere il Green Pass. Se si clicca sul primo link, tramite questo sito, è necessario inserire i dati della propria tessera sanitaria per poter scaricare il certificato verde. Il secondo sistema è quello di ottenerlo tramite il fascicolo sanitario elettronico, cliccando sulla regione di appartenenza. Una volta effettuato questo passaggio, selezionare o accedi al servizio o certificato verde vaccino, dopodiché autenticarsi con speed. Superati questi passaggi, il libretto vaccinale viene automaticamente scaricato in pdf. Il terzo modo per ottenere il Green Pass e farlo in maniera più semplice è necessario cliccare su tramite app, scaricando l'app Immuni o l'app Io, disponibile per Android e Apple. L'ultimo sistema per accedere alla certificazione è quello di cliccare sul link con l'aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o farmacie, dirigendosi successivamente dal medico di base o in farmacia per poter ricevere direttamente il certificato. Sono 67 i nuovi casi positivi al covid-19 registrati nella regione Marche, soltanto 4 nella provincia di Pesaro Urbino, una cifra ottenuta da 3.026 tamponi che abbassa al 4,1% la percentuale di tamponi positivi al contagio rispetto al 12% di ieri. Sale invece a 39 il tasso di incidenza accumulativo ogni 100.000 abitanti. Sono invece 16 ricoverati nella regione Marche, cioè 3 in meno di ieri, di cui 4 in terapia intensiva. Ed ora cambiamo completamente argomento e ci occupiamo del consiglio comunale di ieri a Pesaro dove è stata bocciata la mozione del consigliere Dario Andreolli firmata da tutti i consiglieri della Lega che chiedevano un impegno alla riqualificazione di Piazza Redi a bocciare la proposta ai 14 voti contrari della maggioranza consigliare che ha sottolineato quanti interventi siano già stati realizzati in quella zona. Dalla nuova illuminazione ad altri accorgimenti mirati a contrastare atti vandalici. Andreolli ha rilanciato come sull'aria in questione non si intervenga però fattivamente da lontano 2003 e ha già annunciato la preparazione di una nuova proposta migliorativa per il mese di settembre. Ed ora lasciamo i confini provinciali per occuparci di tutti quei comuni marchigiani che si trovano nel cosiddetto cratere sismico per i quali ora si aprono diverse possibilità di finanziamento per il rilancio dei territori e la rigenerazione urbana. Alla sfida del contratto istituzionale di sviluppo area sisma arriva una massiccia risposta di partecipazione e di progettualità da parte di quei territori marchigiani piegati dal terremoto. La regione Marche infatti nelle ultime settimane si era resa protagonista di una forte azione di stimolo nei confronti degli amministratori locali del cratere affinché alla ricostruzione fisica si abbinasse anche una strategia di sviluppo socio-economico nell'area sisma. Ne sono usciti quasi 130 progetti potenzialmente meritevoli di 910 milioni di finanziamenti. La risposta dei comuni del cratere è stata veramente molto convincente. Hanno voluto dare una risposta concreta a ben 900 milioni di progetti che attraversano tutte le cinque tematiche che il ministro per la coesione ha individuato come potenziali destinatari dei finanziamenti del contratto istituzionale di sviluppo c'è voglia, c'è fermento, c'è vitalità e in particolare mi sembra giusto sottolineare come molti comuni si siano messi insieme. Fare rete sembrava un'utopia invece il CIS ti dimostra che la maturità della classe dirigente del cratere è molto avanzata. La regione Marche ha costituito un gruppo di lavoro, un gruppo tecnico che preventivamente ha anche indicato quelli che sarebbero stati i criteri per aggregare e organizzare i finanziamenti e le progettualità. Tutti i progetti, quasi 130, sono stati dichiarati idonei a ricevere il finanziamento, sono stati graduati e trasmessi a Invitali a cui spetta un compito istruttorio di organizzare per l'appunto quelle che saranno le procedure di selezione. Poi toccherà alla cabina di coordinamento dare l'ultima parola. Ora la possibilità di finanziamento entrerà in una fase selettiva perché il CIS per dimensioni economiche potrà coprire solo una parte delle progettualità proposte ma attraverso altri strumenti è intenzione della regione dare la più ampia copertura alle istanze dei comuni. 900 milioni di progetto ma appena 100 milioni di finanziamento per il contratto istituzionale di sviluppo quindi diciamo che sarà solo una parte quella della progettualità messa in campo che potrà avere materialmente e subito un finanziamento però nessuno si deve scoraggiare perché fortunatamente c'è anche il piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte Sisma. Un miliardo e 780 milioni che saranno devoluti anche a una valutazione della cabina di coordinamento del Sisma quindi noi siamo dell'avviso che laddove non sarà possibile con il contratto istituzionale di sviluppo finanziario vi sarà questa seconda possibilità questo secondo round anche molto consistente l'importante è la qualità del progetto l'importante è voler assumere come criterio orientatore della nostra azione il fatto che fatta la ricostruzione fisica dobbiamo comunque pensare alla rigenerazione socio economica del cratere per evitare che una volta ricostruite le case queste restino drammaticamente vuote perché nel frattempo l'economia si è disidratata dobbiamo evitarlo il presidente acquaroli è dell'avviso di mettere in campo tutte le energie possibili perché questa rivitalizzazione venga sviluppata contestualmente alla ricostruzione. Code in autostrada questa mattina per un incidente stradale avvenuto all'altezza del casello di Fano dove un tir ha perso un carico pesante che è andato a impattare con un furgone che stava sopraggiungendo c'è stato un ferito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e alla polizia autostradale che ha poi ripristinato la circolazione. Sono in arrivo al comune di Pesaro 287 mila euro per contrastare il rischio di incidenti stradali causati da droga e alcol finanziamento ottenuto grazie all'aggiudicazione di un bando ministeriale vinto da Pesaro attraverso il progetto Be Responsible. Si tratta di un progetto condiviso fra comune, polizia locale e Croce Rossa. Questi soggetti infatti utilizzeranno i fondi ottenuti in una serie di azioni mirate di formazione, informazione e prevenzione. Giovedì 29 luglio si conclude al parco Miralfiore la rassegna musicale Interludio. A calare il sipario alle ore 21 sarà il noto attore di cinema, teatro e fiction Giorgio Tirabassi che per l'occasione impugnerà la chitarra in uno spettacolo in cui alternerà musica e recitazione accompagnato dalla band Hot Club Roma. Lo spettacolo si intitola Django Reinhardt, il fulmine a tre dita e racconta la vita appunto di Reinhardt, artista ritenuto fra i più grandi jazzisti europei del secolo scorso. La lista delle cose semplici è il primo romanzo scritto dalla giornalista Lucia Renati che domani, mercoledì 28 luglio alle ore 21.15, sarà presentato nella Sala delle Arti della Villa Le Limonaie di Muraglia. A condurre la serata sarà Paolo Pagnini. Ispirato a vicende autobiografiche, la lista delle cose semplici è la storia commovente di rinascita e speranza di una giovane donna dopo una terribile tragedia. Significativo ritorno d'immagine per il brand Trona, ideato dal designer pesarese Cristian Tamburinelli. Nelle ultime ore l'imprenditore e influencer Gianluca Vacchi è infatti diventato protagonista di alcuni video virali che lo ritraggono in un momento di relax nella sua piscina godendosi un pranzo su una poltrona galleggiante firmata Trona e realizzata dall'azienda pesarese Bluestar Fashion Design. Video che su TikTok ha raggiunto già 4 milioni di visualizzazioni e più di 350 mila like. Il video che vi proponiamo ora invece è stato postato nella pagina personale dell'assessore all'operatività Enzo Belloni e mostra come nell'ultima nottata siano partiti i lavori per la prossima opera di Street Art che sarà realizzata nei sottopassaggi pesaresi. A due settimane dal completamento del murale al sottopasso di Via Lamarca dedicato alla memoria di Mirko Bertuccioli dei Camillas il prossimo progetto di riqualificazione urbana si concentrerà infatti sul sottopassaggio di Loreto. Ed ora parliamo di spettacoli, parliamo di Stupor Circus affascinante spettacolo di circo senza animali, circo contemporaneo che torna a Pesaro nel mese di agosto e lo fa in una cornice molto particolare, quella degli Orti Giuli. L'idea innovativa di Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo viene riconfermata per il terzo anno consecutivo dal comune di Pesaro che in collaborazione con Amat e Circo il Grito darà vita a nove appuntamenti che uniranno circo, musica e letteratura. L'evento, intitolato Suerte, si svolgerà dal 5 all'8 e dal 18 al 22 di agosto dove, rispetto alla scorsa edizione si svolgerà all'interno degli Orti Giuli. Un esperimento circense dove la buona riuscita del movimento tecnico dell'artista sarà influenzata dagli spettatori che, con le loro scelte potranno dar vita a delle performance esclusive. Il festival, in collaborazione con il conservatorio Rossini coinvolgerà due violinisti di assoluto valore che accompagneranno le esibizioni degli acrobati. Scopriamo un'altra parte della città che può avere una vocazione di spettacolo anche abbastanza inattesa anche se è un luogo in cui gli amici del Festival Zoo e così hanno usato spesso. Devo dire che ha colpito subito la nostra direzione artistica la direzione artistica che è quella del Circo Il Grito che da tre anni con noi fa dei progetti, devo dire, amatissimi. Noi non immaginavamo che la città potesse rispondere in questi termini. Infatti quest'anno invitiamo tutti subito a comprare il biglietto perché questo esperimento esclusivo che trasformerà gli Orti Giuli in una sorta di tendone a cielo aperto davvero si annuncia come un evento davvero eccezionale. È il momento in cui l'arte dello spettacolo dal vivo si concentra sul circo e completa in qualche modo la proposta che è Pesaro, città della musica, ma anche città del teatro, città della lirica, città di Rossini. Un tassello che mancava e che abbiamo sanato tre anni fa ma devo dire ogni anno ci riserva delle sorprese davvero sempre più interessanti. E siamo molto felici appunto che Stupor Circus con il Circo Il Grito che ha avuto già due anni fa un grandissimo successo al Parco Mera del Fiore con ventilate che poi in corsa si sono trasformate in quasi 50 appunto per le richieste del pubblico. Quest'anno non si monta lo sciapito da circo a cui eravamo abituati, magari in futuro per festival anche più articolati che si potranno realizzare ma crediamo che la riscoperta anche in queste chiave degli Orti Giuli nel mese d'agosto possa essere una novità apprezzata e anche diciamo una situazione magica da proporre ai pesaresi e ai turisti. Entreremo negli Orti Giuli e lì invadiamo il parco con il circo il circo contemporaneo per cui porteremo ancora una volta la nostra idea di circo che è un'idea di circo che si combina con quella di musica, con quella di teatro con quella di letteratura e al parco questa volta ci siamo chiesti come il fato interviene sulle nostre vite sulle nostre vite di circensi per cui nel momento in cui fai un salto mortale cos'è che ne determina la buona riuscita? Solo l'allenamento, solo la scelta del giusto movimento tecnico o c'è anche qualcos'altro? e ci siamo chiesti come può il fatto, il destino la fatalità di uno spettatore intervenire su quella del Circenze e quindi abbiamo messo in atto dei meccanismi piuttosto pericolosi diciamo per andare a sperimentare ecco su questo meccanismo. E questa sera chiudiamo con lo sport è cominciata la seconda settimana di ritiro per la nuova Vispesaro che è a lavoro nel borgo senese di Chianciano Terme dove il nuovo tecnico Banchini può lavorare con una squadra la cui costruzione è già vicina al completamento. Domenica 1 agosto la partita fra Vispesaro e Grosseto sarà la prima amichevole della squadra bianco-rossa versione 2021-2022. Si giocherà a Chianciano Terme Borgo Senese che dal 19 luglio scorso ospita la Vis in ritiro a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Marco Banchini. Una Vis già in avanzato stato d'assemblaggio considerando che l'allenatore ex Como può godere di una bozza verosibile di Vis che affronterà il prossimo campionato. Pozza in cui è netto il taglio col passato recente. Della Vis che a maggio si è guadagnata il suo quarto anno consecutivo di Serie C salvandosi con due turni d'anticipo sono rimasti in rosa i Soligucci, Cannavò, Giraudo, Egiachi e Di Sabatino. Nuovi portieri con l'arrivo dell'ex Juve Stabia Farroni e del giovane Campani dal Sassuolo. Ampie le novità anche in difesa dove sono arrivati gli esperti Gavazzi e Manetta da Foggia e Fermana, Pellizzari dal Legnago e Millenial di belle speranze come Cusumano dal Cagliari o Saccani, Piccinini e Pinelli da quel Sassuolo al quale la Vis sta attingendo a piene mani. A centrocampo c'è l'esperienza di Coppola ex Capitano del Potenza, la fantasia di Marcandella della Virtus Verona, il dinamismo di Besea della Viterbese e le forze giovani di Domenico Rossi dal Venezia, Denuzzo dal Como, Lombardi dal Monza senza dimenticare ma Strippolito e Mercuri messi si in mostra in Serie D con Pineto e Lavello. In attacco le conferme di Gucci e Cannavò saranno affiancate da nomi intriganti come quello dell'ex Piacenza De Respinis e del sudamericano Martin Tonso, trequartista argentino con trascorsi luccicanti in patria nel campionato cileno in Coppa Libertadores eppure nella massima serie greca. Lavora sul campo la squadra di Banchini lavora in fase di sfoltimento la società del Presidente Bosco. Tanti i calciatori sotto contratto dalla quale la Vis ha deciso di separarsi. Già ceduti Marchi, Deramo e Blumamona, già svincolati Marchegiani e Germinale. Restano però ancora da piazzare Gelonese, Gennari, Lazzari, Defeo, Nava, Pezzi e Deleuteri. Ancora poche informazioni Poi chiudiamo il nostro telegiornale. Prima di tutto vi informiamo che questa sera alle 21.15 potete conoscere le modalità per diventare una guida naturalistica o ambientale escursionistica. Questo progetto in collaborazione con la cooperativa sociale Labirinto. Alle ore appunto 21.15 vi consigliamo la visione. Chiudiamo il nostro telegiornale lasciandovi con della buona musica, quella stessa musica che in tanti ieri sera hanno apprezzato al Parco Miralfiore. La musica è cantata da Clarissa Vicky in questo concerto dal titolo Freedom. Noi eravamo lì, vi facciamo vedere alcune immagini e vi auguriamo buona serata. La musica è cantata da Clarissa Vicky La musica è cantata da Clarissa Vicky La musica è cantata da Clarissa Vicky la musica che in tanti ieri sono venduta la musica che in tanti ieri sono crede I know you're not a fool Shouldn't know about you, never cheat a friend And waste a chance to not be a giver So I'm never gonna dance again You're where I dance with you You're higher to one to three If I'm gonna lose with everything It's not the sun going down on me